Italia 1! Sono passati vent'anni dalla prima puntata. Tu hai un problema. Forse allora. Vent'anni di risate e grandi emozioni. Ti voglio bene. Anch'io tesoro. È un piacere. Ma quella delle ragazze Gilmore... Entrate, entrate, entrate! Rimane una storia da vedere e rivedere. Calma! Calma, calma! Una mamma per amica. Tra poco su Italia 1. Calma, calma!